Qualche giorno fa vi ho parlato di come nel tempo Saxenda, l'ira glutide in particolare, che è il suo principio attivo, raggiunge una condizione di, si chiama steady state, cioè di costanza nel sangue. Cioè dopo quante ore il farmaco raggiunge una condizione stabile, di concentrazione stabile nel sangue. La risposta a questa domanda è dopo 5 giorni. Dopo 5 giorni, indipendentemente da quando vi fate la punturina, quindi non cambia assolutamente nulla, purché la facciate sempre ogni 24 ore, dopo 5 giorni la concentrazione del farmaco nel sangue raggiunge un plateau, cioè rimane costante. Perfetto. Ecco perché ogni 7 giorni aumentate la dose, perché ne servono 5 per raggiungere la situazione di stabilità. Per vegovi, secondo voi, dopo quanti giorni si raggiungerà la condizione di stabilità della concentrazione del principio attivo nel plasma sanguigno? La risposta è un mese. Cioè dopo vegovi, tenendo conto delle mi vite e di tutti gli altri fattori della farmacocinetica che questa volta vi risparmio, con vegovi per arrivare a concentrazione del principio attivo costante nel sangue serve un mese. Ecco perché si passa alla dose successiva, eventualmente dopo un mese.